Da vari sondaggi condotti su utenti di PC desktop e notebook emerge che sempre più persone scaricano e archiviano contenuti digitali come musica e film e queste stesse persone considerano il contenuto scaricato così come i propri documenti più importanti dei PC stessi. Tuttavia pochi di questi utenti pur riconoscendone l'importanza hanno cura di effettuare regolarmente un backup dei propri dati e le conseguenze spesso sono disastrose. I dati contenuti nei nostri PC in un certo senso ci definiscono ricordi, immagini, documenti, in tre parole, la nostra vita. Dati che vorremmo avere sempre con noi ma al tempo stesso salvaguardare. E avendo ben presente questa necessità che Seagate ha creato le unità esterne data mover della famiglia Free Agent destinate a rivoluzionare l'universo dello storage. Perché Free Agent non è solo una soluzione di backup portatile e nemmeno un semplice hard disk esterno, ma un modo per accedere ai propri dati digitali ovunque, condividerli con chiunque e sincronizzarli con diverse applicazioni. La famiglia di data mover Seagate Free Agent include due modelli con ambiti di impiego differenti, ciascuno disponibile in diversi tagli di capacità. Free Agent Pro è la soluzione di data moving che permette di portare sempre con sé i propri contenuti digitali, di proteggerli salvando versioni differenti e usando la criptografia e di spostarli su vari dispositivi o anche online in uno spazio personale in cui condividerli con altri utenti. Consente inoltre di ripristinare le impostazioni di sistema ad un punto precedente e di archiviare una quantità elevata di dati fino a 750 GB. Si propone con un design raffinato e compatto con le bande laterali luminose e con la base d'appoggio per occupare ancora meno spazio. Accensione e spegnimento sono a sfioramento e il peso è inferiore al kg. Facilità d'uso al primo posto perché basta collegare il cavo, avviare il software e seguire le istruzioni a schermo per essere subito operativi. Ma vediamo le funzioni nel dettaglio. L'unità data mover consente di duplicare o spostare su più dispositivi i contenuti selezionati, ad esempio copiando mail e contatti su un iPod oppure mettendo a sicuro l'intero contenuto della cartella documenti del proprio PC. In pratica è possibile avere sempre con sé i propri contenuti senza preoccuparsi di organizzarli, grazie al backup automatico in continuo. Se capita un problema è possibile ripristinare il sistema ad uno stato precedente, senza però intaccare i dati critici come immagini, musica o documenti che non vengono alterati grazie alla funzione System Rollback. Oltre al backup su Free Agent si può fare backup su dispositivi di rete, su chiavi USB, copiare le proprie foto su un account online Shutterfly e per sei mesi è possibile anche usufruire gratuitamente di uno spazio di memorizzazione online da 500 MB per il backup e la condivisione attraverso Internet. Alla fine di questo periodo naturalmente sarà necessario pagare un canone per usufruire di questo servizio. Prestazioni e flessibilità nel collegamento al computer. Free Agent Pro è disponibile con interfaccia USB ad alta velocità e interfaccia eSATA, quest'ultima ancora poco diffusa ma capace di fornire prestazioni superiori e supporto ai protocolli come lo Smart che fornisce al sistema un'indicazione accurata delle condizioni dell'unità Data Mover. In alternativa c'è Free Agent Pro con doppia interfaccia FireWire 400 per il colgamento a PC e Mac. La velocità di rotazione è di 7200 RPM e i tagli disponibili sono 320, 500 e 750 GB. Nella confezione trovate l'unità Data Mover con software e documentazione elettronica preinstallati oltre a cavo USB alla guida all'uso e all'alimentatore. Free Agent Pro è compatibile con Windows Vista, Windows XP e Windows 2000. Ultimo aspetto da non trascurare, i prodotti Seagate della linea Free Agent hanno una garanzia limitata di 5 anni.